Entreranno in vigore dal 5 novembre alla 3 dicembre le misure contenute nel nuovo DPCM del Governo. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Coprifuoco nazionale dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Blocco degli spostamenti da e verso regioni a rischio. In Campania vige anche il divieto di spostamenti tra province. Stop agli spostamenti in aree scenari 3 e 4 sia in entrata che in uscita, chiusura dei centri commerciali nei festivi e prefestivi, didattica a distanza al 100% per superiori, primaria e infanzia in presenza ma in Campania no, c'è già un'ordinanza più restrittiva. Con scenario 4 grave chiudono attività commerciali tranne edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. In zone a rischio chiudono bar e ristoranti ed è consentito solo asporto. Stop anche le crociere da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico, dei musei, bingo e casino. Per quanto riguarda i mezzi pubblici la capienza sarà dimezzata del 50%. In zone rosse l'attività fisica sarà permessa da soli e vicino casa. Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Infine solo le regioni rosse entreranno quindi in una sorta di lockdown che per molti aspetti ricorda quella della primavera scorsa e su questi territori si discute l'utilizzo dell'autocertificazione in versione modificata fortemente voluta dal ministro Speranza. Di certo andrà compilata ed esibita quando si dovrà uscire dopo le 22, ossia quando scatterà il coprifuoco nazionale. L'ultima novità rispetto alla bozza circolata nel pomeriggio di ieri è che parrucchieri e barbieri resteranno aperti anche nelle aree rosse. Solo nelle prossime 24 ore sapremo in quale categoria sarà collocata ogni regione in base all'indice RT e ad altri 21 criteri, una classificazione destinata a suscitare polemiche come già si è capito dallo scontro in serata tra governo e presidenti di regione.